Signora Corinna, è cambiato qualcosa dopo i nostri servizi, è successo qualcosa oppure la situazione è sempre la stessa, vive in auto? Le dicevo, all'operatorio ho cambiato praticamente il sedile, davanti sono andata dietro. Ha suscitato l'interesse e la commozione di numerosi telespettatori, lo sfogo della signora Trocca, ospite ieri nello spazio intervista del telegiornale di Telequattro. Stamane hanno chiamato molte persone che hanno voluto chiedere maggiori informazioni ed esprimere la loro solidarietà nei confronti della signora. Ogni notte passata fuori è dura, è dura perché comunque non si può vivere in macchina, proprio umanamente. La situazione è diventata abbastanza nota. La donna, a seguito della separazione del marito dopo molti anni di matrimonio, si è trovata senza più fissa dimora. Da quel momento vive e dorme nella sua automobile, aiutata sì dalla generosità di alcuni amici, ma con un sentimento sempre di debito nei loro confronti. Da qui la decisione di non voler rompere gli equilibri altrui e di continuare ad essere nomade con la sua vettura. Tra l'altro lei si sposta di sera in sera per trovare delle zone tranquille, come fa? Sì, cerco di spostarmi appunto proprio per un motivo di sicurezza, per non essere proprio presa di mira diciamo. Sinceramente, e lo dico proprio appartamente, che io mi sono procurato un bel coltello da cucina e l'ho in macchina. Vettura che però non le garantisce comfort e sicurezza. Tutto ciò che la donna chiede appartamente è che avesse la facoltà di poter segnare un alloggio. L'aiuto che mi stanno dando i servizi sociali, che ho sentito dire che mi hanno dato l'aiuto, che sembrerebbe che uno gli dà l'aiuto, che può prendere casa, mangiare, dormire, fare tutto. Il suo famulare di salito di assegni di 400 euro al mese. 400 euro al mese. Giuro sinceramente che non si arriva assolutamente. Con 400 posso vivere in casa, ma non in strada. Giuro sinceramente che non si arriva assolutamente.